Allora amici ci troviamo qui in piazza Michele Sovente per l'inaugurazione della sede dell'associazione Alba Nuova ormai da voi conosciuta. Mi trovo qui, una sede ci voleva per dare continuità ai laboratori ormai già conosciuti e tanto seguiti da tutti gli alunni della Vespucci e non solo. Mi trovo con un socio perché cominceremo una nuova avventura, un'agenzia di animazione. Sì, quest'anno l'associazione Alba Nuova prende da il via a questa nuova attività insieme ad un esperto che vi presento qui con me, Antonio Palumbo. Grazie, sono Antonio Palumbo, il titolare dell'agenzia, dell'omonima agenzia IP Time Animazione, presente da 13 anni sul territorio fregreo. Cercherò insieme a Giovanna di portare un po' della mia esperienza ventennale nel campo dell'animazione, anche per creare degli eventi e delle attività per i bambini del posto e per tutta la zona fregrea. Speriamo che va bene, io penso di sì, c'è area di positività in tutta questa situazione. Oggi ci sono avvenuti molti bambini, insomma questa cosa ci fa veramente molto piacere. Io ringrazio anche montediveloce.com per la presenza e niente, non ci resta che darci i migliori in bocca al lupo affinché tutto vada bene. Grazie, ciao. Grazie a tutti.